No, sicuramente era una partita importantissima per noi, per la classifica. Lo sapevamo che anche gli altri hanno vinto, quindi volevamo dare un signale e abbiamo fatto. Non era facile perché abbiamo anche mercoledì, abbiamo tutto con la squadra, però lo sapevamo che abbiamo anche la forza per recuperare in tre, quattro giorni e questo abbiamo fatto vedere oggi. Eh sì, noi abbiamo bisogno, forse un gol subito per rimontare le partite, no, sto scherzando. Siamo partiti un po' sfortunati, dobbiamo dire, però noi lo sappiamo che abbiamo la forza per rimontare tutte le partite con la nostra forza anche in secondo tempo, quindi nessun paura. Secondo me è un momento importante in una partita, non per chiudere, ma per dare un signale alla squadra che possiamo vincere la partita, quindi sono contentissimo per i gol sicuramente. Questo è un periodo in campionato importantissimo con sconti diretti subito. Dopo la partita di oggi dobbiamo recuperare perfetto per arrivare in il migliore modo, per dare ancora un segnale che noi ci siamo. Non è facile se tu sei in panchina, un giocatore vuole sempre giocare, quindi anche io, però io lo sapevo che quando io do tutto in allenamenti io credo che io posso giocare sempre. Oggi il Mista mi ha dato la fiducia di giocare, io volevo dare un segnale, secondo me ho fatto abbastanza bene. Grazie. Grazie.